E siamo lo sport, parliamo di calcio segnatamente del Pescara, squalifica nella curva nord, ebbene niente ricorso, possiamo anche dare uno sguardo al nostro sito www.reteotto.it a parlare proprio il legale del club l'avvocato Flavia Tortorella che dice a seguito di un'attenta visione degli atti non ci sono i margini per incartare un ricorso che possa avere delle chance alte di accoglimento, i fatti risalgono, ricordiamo, la trasferta di Lucca dello scorso 22 ottobre, lancio di fumogeni e petardi da parte dei sostenitori del Pescara, una settimana fa la decisione del giudice sportivo di combinare una giornata disqualifica alla curva nord che pertanto resterà chiusa nella sfida con l'Olbia, in programma sabato 9 dicembre. E dopo domani il Pescara ospiterà le ore 20.45 il Cesena, una delle due capolista del Gironi B, l'altra è la rivelazione Torres, bene conferma, sei probabile di Vergani al centro dell'attacco, ci sono anche i rientri di Messic dopo la squalifica e del nazionale Tugnov. Il probabile 11, plizzare i tre pali in difesa Floriani, Brosco, Messic e Milani a centrocampo, squizzato Play, Aloy e Tugnov mezziali. Davanti Merola, anche se insidiato da Cuppone, però insomma dovrebbe essere confermato l'ex Foggia, nel tridente completato da Vergani e da Accornero. Domani seduta di rifinitura e conferenza pre-gara di Zeman nel Cesena, tornano a disposizione Corazza e Carbo, sempre ai margini il difensore centrale Ciofi, sarà operato nei prossimi giorni per Ernia, due mesi di stop. Sistema di gioco 3-4-2-1, in attacco probabile l'impiego di Saber e Spendi alle spalle di Corazza. Altra opzione, Saber e Carbo a ridosso di Spendi. Pescara-Cesena, che valenza dare a questa partita? È una partita importante, sicuramente, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito, è chiaro che se fai il risultato con il Cesena puoi dire la tua, se non lo fai devi fare un campionato diverso. È vero che il campionato è ancora lungo, però è anche vero che se non sei nella condizione di fare il risultato con il Cesena, comunque di uscire bene dalla partita con il Cesena, farai più fatica. Servirà una partita intelligente soprattutto? Servirà la partita giusta per dimostrare che il Pescara non è quello che abbiamo visto nelle ultime 4-5 partite, ma è quello che abbiamo visto prima.